Un'assemblea dei sindaci importante si è svolta ieri nella sala del Consiglio Comunale di Siderno, sotto la guida del sindaco di Bovalino, Vincenzo Maisano. L'assemblea ha visto la partecipazione di 18 sindaci provenienti da varie municipalità della Locride, tutti uniti nell'affrontare le sfide ambientali che affligano il territorio. L'incontro ha affrontato tre punti cruciali all'ordine del giorno. Parliamo della collaborazione istituzionale, tant'è che i sindaci hanno condiviso i dettagli di un incontro costruttivo con i vertici dell'ASP e il governatore della regione Occhiuto. La collaborazione istituzionale è emersa come elemento fondamentale per affrontare le sfide sanitarie attuali, il problema reale dell'ospedale di Locri. Il sindaco di Siderno, Maria Teresa Fragomeni, ha relazionato sull'incontro avvenuto a Reggio Calabria, esponendo le conseguenziali determinazioni. Il secondo punto all'ordine del giorno è stato l'emergenza ambientale. Il focus si è poi spostato sulle criticità ambientali, includendo l'erosione costiera nella Ionica, il disesto idrogeologico e il problema fiumare. L'assessore ai lavori pubblici di Caoloni, Antonella Caraffa, delegata dal sindaco del suo comune, ha illustrato le difficoltà del territorio e ha posto l'attenzione sui requisiti per ottenere la bandiera blu, sottolineando l'importanza della tutela costiera. Uno dei punti all'ordine del giorno è stato quello dell'immagine mediatica e del problema della Galleria della Limina. I sindaci hanno espresso preoccupazione per l'immagine mediatica distorta della Locride, sollecitata dal sindaco di San Luca Bruno Bartolo, che ieri comunque era assente. Spesso l'immagine del territorio è associata alla criminalità. Inoltre è stato affrontato il recente crollo dei calcinacci nella Galleria della Limina, aggiunto all'ordine del giorno. Il sindaco di Plattii, Sergi, ha sollevato tensioni critiche, accusando Maesano di autarchia. I numerosi sindaci hanno poi preso la parola, tra cui Pittani di San Giovanni di Gerace, Geppo Femia di Marina di Gioiosa e Giorgio Tropeano, sindaco di Stilo. L'intervento di Sergi, accusatorio verso Maesano, ha aggiunto una nota di tensione all'intera assemblea. In un'ottica di unità, gli amministratori locali hanno sottolineato la necessità di fare squadra per tutelare il patrimonio ambientale, evidenziando gli squilibri generati dal porto di Roccella sull'intero litorale costiero. L'assemblea si è poi conclusa con l'obiettivo dichiarato di collaborare strettamente per affrontare le sfide ambientali e ovviamente promuovere una rappresentazione più eco e positiva della Locride a livello nazionale. Partiamo da questo problema della Ionio Tirreno, che è un problema del quale avete discusso con gli organi superiori qualche mese fa con rassicurazioni importanti. Oggi è arrivata la comunicazione da parte di Anas che i lavori inizieranno a marzo, un po' troppo tardi o cerchiamo di conciliare questo periodo di feste con la piena efficienza di questa dorsale, altrimenti sarebbe una vera e propria viattura. Ma è certamente che la problematica Ionio Tirreno è una problematica seria che ci ha visto impegnati in questi mesi i sindaci, tutti compatti, non soltanto a trovare delle alternative ma anche a capire bene quali sarebbero stati i lavori. E così vorremmo capire pure adesso, a questa nota cercheremo di evidenziare, di capire ancora meglio la tipologia dei lavori, se magari a seguito di questo piccolo crollo sarà necessario fare qualche altra cosa, oppure per l'Anas, per i tecnici e per i progettisti basterà quello che ci siamo detti qualche mese dietro con il Presidente Occhiuto. L'impegno qual era? E sappiamo che sicuramente anche la Regione Calabria farà la sua parte e attenzionerà il problema insieme a noi perché il nuovo corso dell'Assemblea ha voluto soprattutto porre non dei trasferimenti particolari ma ha voluto soprattutto soffermarsi su un concetto. ci deve essere molta collaborazione tra tutti gli enti, tra tutte le istituzioni e trasferire le responsabilità a scaricabarile certamente non va bene. Le aspettative sono quelle di un intervento che possa appunto manutenere e salvaguardare e riqualificare quello che c'è da riqualificare per quanto riguarda la struttura tecnica. Quindi l'intervento slim di cui si parlava, quello di rinfresco e di sistemazione delle criticità. Sì, questo era stato detto nell'ultima volta. Adesso dobbiamo verificare se a seguito di questo piccolo incidente che per fortuna non ha creato alcun problema sia necessaria una cosa diversa e questo ce lo dovranno dire i tecnici. Bene, allora, secondo punto dicevamo, quello sollecitato dall'ASP, oggi anche una lettera abbastanza dura del primo cittadino di Platì che la criticava di decidere in maniera autonoma determinate cose e così non è così, sull'ASP ovviamente. Guarda, io ho letto, dispiace che Rosario, l'amico Rosario, abbia voluto esternare queste cose in questo modo anche perché non è assolutamente vero tutto ciò e prova ne è che i punti all'ordine nel giorno di oggi non li ho fatti io così all'inseputa di tutti, ma sono venute fuori da due o tre riunioni di comitato dove su proposta del sindaco di Caolonia, ci tengo a dirlo, è stata poi avanzata la questione della discussione in assemblea della problematica dell'erosione costiera integrata con la questione del dissesto grazie alla proposta del sindaco di Samo. Così anche il terzo punto all'ordine del giorno viene fuori da una proposta del sindaco di San Luca, quindi l'attenzione anche da parte mia verso i sindaci dell'area sud dei miei vicini di casa è massima così come lo è anche dell'ultimo comune anche della fascia dell'Alta Locride, quindi dispiace ma certamente se c'è un disagio paventato dal sindaco cercheremo di capire, porteremo questa lettera aperta in comitato e poi il comitato deciderà appunto se c'è la necessità come forse davvero ce n'è rappresentata oggi dal sindaco di Platì di portare gli argomenti poi in assemblea.